Sono ripresi dopo l'interruzione imposta dall'emergenza sanitaria i lavori per la realizzazione da parte di Aset della valasca di prima pioggia in prossimità della foce del torrente Arzilla. L'emergenza Covid-19 ha costretto in via cautelativa a sospendere lo scorso 8 marzo i lavori avviati a dicembre del 2019. Una volta ultimata questa opera avrà il compito di intercettare in caso di abbondanti piogge le acque del torrente Arzilla che si riversano così in mare. In questo modo si eviteranno i divieti di balneazione in questo tratto di costa per eccesso di carica batterica. Un progetto a cui collaborano CNR, Università di Urbino, Regione Marche e Regione Abruzzo e che ha anche una valenza comunitaria visto che viene condiviso con altri stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. A me piace ricordare che questo è un intervento importante anche dal punto di vista economico e dentro questo contesto c'è un contributo importante che il Comune di Fano attraverso Aset è riuscito ad ottenere dall'Europa in partenariato con altri enti locali della Croazia in particolare con la provincia di Spalato che ha consentito di recuperare quasi mezzo milione di euro, 493 mila euro con il progetto Watercare che contribuiscono alla realizzazione di quest'opera che è molto avanzata dal punto di vista tecnologico e che permetterà di dare un contributo importante non solo all'ambiente ma anche al turismo della nostra città. A maggio è stato infine possibile riprendere quindi i lavori di escavazione della vasca e le previsioni sono quelle di entrata in funzione a pieno regime dell'impianto per l'estate 2021. Uno degli elementi che determinavano problemi sicuramente era l'attuale impianto di scolmo esistente vicino alla foce del fiume che pertanto alimentava con inquinanti di tipo organico la foce e poteva dare problematiche di balneazione. Chiaramente con la vasca in funzione la gran parte di quest'acqua verrà accumulata e poi rinviata all'impianto di depurazione nelle 48 ore successive chiaramente diminuendo e abbattendo in maniera significativa il contributo di inquinamento ambientale dal sistema fognario.